Avete presente il vecchio detto che in Italia basta intestare tutto alla classica nonnina pensionata per non avere alcun problema con i creditori e con il fisco? Ecco, un buon Politichelli Correct vorrebbe che ora io vi dicessi che non è vero nulla, che tanto prima o poi le furbate si pagano e che è meglio vivere con la testa alta sapendo di aver fatto il proprio dovere, ma proprio guardate per quanto mi sforzi a mantenere un profilo alto, a insegnarvi che bisogna fare di tutto per essere in regola, che è meglio non nascondere nulla, che se tutti paghiamo le tasse alla fine tutti pagheremo di meno, per quanto mi sforzi e c'è sempre qualche riforma che mi smentisce e che fa dire al classico commentatore di turno, fesso chi paga. Ed ora, la recente riforma della riscossione sattoriale, ossia di quelle regole rivolte a riscuotere i crediti del fisco, non smentisce la regola delle sanatorie, delle furberie, del meglio aspettare che tanto prima o poi cade tutto in prescrizione o tanto per intenderci del fesso chi paga. Sapete perché? Il perché ve lo spiego subito dopo la sigla. Dieci secondi per iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati sulle ultime novità legali di questo strano paese. Sigla. Come vi dicevo, la recente riforma della riscossione delle cartelle sattoriali tratta coi guanti di velluto in nulla tenenti che presentano debiti col fisco, offrendo loro condizioni particolarmente favorevoli. Partiamo alle origini. Come abbiamo già visto in un precedente video di qualche giorno fa, la nuova normativa prevede lo stralcio automatico delle cartelle dopo cinque anni quando non sia stato possibile il recupero coattivo delle somme. Ma la stessa legge stabilisce anche la possibilità di un discarico anticipato tutte le volte in cui la gente per la riscossione si accorge anche prima dei cinque anni che il debitore non può pagare. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, già dopo sei mesi dalla notifica della cartella stessa. E come succede tutto questo? Come saprete, prima di fare il pignoramento, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può consultare l'anagrafe tributaria, un database dell'Agenzia delle Entrate che indica quali sono i redditi dei contribuenti, patrimoni, contocorrenti e qualsiasi altra fonte di ricchezza. Ebbene, se al primo accesso, ripeto, al primo accesso, Agenzia Entrate e Riscossione dovesse accorgersi che il contribuente non possiede beni intestati, allora restituisce il ruolo all'ente creditore come per dire veditela tu, così ridà le carte all'Agenzia delle Entrate o all'Inps. E così finisce qui il tentativo di riscuotere i crediti. Ora, uno di voi dirà, va bene, dov'è il problema? Se il contribuente è nulla tenente, è inutile stare a perdere soldi in Riscossione inutili. Apparentemente è vero, ma solo apparentemente. Il punto più critico di tutta questa nuova impostazione è il rischio di minare un principio fondamentale del nostro sistema giuridico, quello espresso dall'articolo 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde delle sue obbligazioni, con tutti i suoi beni presenti e futuri. Stralciare immediatamente una cartella solo perché il debitore è temporaneamente nulla tenente, potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini e facilitare l'elusione delle norme sul pignoramento. Nulla esclude, infatti, che in un momento successivo il contribuente possa mutare la propria condizione reddituale o patrimoniale, ad esempio perché riceve un'eredità, una donazione, o magari viene assunto da un'azienda e ha un lavoro. Dall'altro lato, una norma del genere consentirà di mantenere artificiosamente una situazione di nulla tenenza temporanea solo al fine di tutelare il polvio patrimonio o per il tempo strettamente necessario a togliersi di tonno le eventuali cartelle esattoriali, come dire «Mamma, ti intesto la mia casa in attesa che la cartella venga scaricata e poi me la riprendo». Oddio, non proprio così, ma qualcosa del genere. Ora, per attenuare questo paradosso, la riforma prevede che, sempre nell'ipotesi del discarico anticipato, e comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento del ruolo ad Agenzia delle Entrate e Discussione, prima che il credito vada in prescrizione, l'ente creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, eccetera, eccetera, può segnalare all'Agenzia delle Entrate e Discussione l'esistenza di nuovi beni pignorabili e quindi ridarle il rincarico di riscuotere le somme. Ma anche questa è una situazione del tutto astratta e difficilmente realizzabile, perché, almeno nell'esperienza che abbiamo maturato fino ad oggi, l'ente creditore che si avvale di Agenzia delle Entrate e Discussione normalmente tende a disinteressarsi delle sorti del proprio credito anche perché è privo di una struttura interna dotata delle competenze necessarie alla gestione della fase di recupero coattivo. In conclusione, amici, la nuova riforma si propone di alleggerire il carico su coloro che in un determinato momento non sono in grado di edempiere alle proprie obbligazioni finanziarie. Tuttavia, corre il rischio dall'altro lato di compromettere i principi di equità e di giustizia del nostro sistema giuridico. Ma questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge e come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale Questa è la vera legge